Forze da altre forze e non dalla musculatura, perché io qui quando mi sposto, comunque prendo forza la cosa? Da lateralità, mi sposto, do una direzione sotto i piedi, anca, e questo mi esce fuori, si compagna, poi assù, giù, evitando di stare dietro perché non aveva nessuna forza, ma io vi devo sforzare di farlo in catar sempre connesso. Catar sempre connesso è il più buon esercizio di combattimento che voi potete fare, perché trasporterete poi la connessione in combattimento. E quando combatto, se io non perdo mai asse, c'è, ma sono sempre perfetto, Diversamente, quelli che pensano che il catar sia un'applicazione, lo devono scordare. Il catar è un sistema di connessione, l'applicazione. Se io faccio questo, tutti voi, più o meno, sapete trovare un'applicazione. Giusto? Ma la prima vera applicazione di questo è l'applicazione di chi? Pennelli in su, pennelli in su. E che non diciamo? Bisogna la calda? Su, in su. Allora, questo, che è un colpo di pennello, può anche essere una difesa, un apparato, una presa, un tirare. Quindi tutto, può essere tutto di vera alla persona, non dallo stile, non dallo scusamento. Perché è la cosa? Allora, l'applicazione è il catar. Si, va bene, può essere per far divertire, non posso far divertire, perché quando inizia il guantimento, di solito, scaffano tutti. Il nostro è diverso. Uno pensa, fanno tutti, qui non è preparato. Guarda, fondamentale, un po' di catar. Posso vincere il chiamo, i pomo, i sambon, i gol, e quindi non viene già per gli strumenti. No, non vediamo. Non abbiamo un po' il problema. Però, la faccia sarà. Facciamo qualcosa che assomiglie a quello, ma che non c'è il problema. Sì, cazzo, non viene già. Qualche furbo, cinese, come diciamo che non si fa nome, perché l'è seguito, nella zona di Genova, si è fatto titolare a casa, veramente, ma non solo titolare a casa, dare lo smalto, lo stupo, costruire, aprire il terreno, pianeggiante, si trovavano, un casale, si è fatto trovare, e qualche anno, e abbiamo uscito a ganare di chi? Vuoi vedere che ha bisogno? Allora, non cercate di dominare corpo e spazio, questo dovete fare, dovete dominare questo corpo e lo spazio, questo è il problema, non sono gesti, non ho detto da, quello è difficile. Dominare uno, cata, cossa su sannini, vuol dire, un cata, tre anni, uno, tre, la distruzione, non una volta, una volta, ogni giorno, ci sono tre anni per dominare, e allora, fa parte anche di ritrovare noi stessi, in allenamento, io lo posso fare nel corredore di casa, non devo andare a mettere in tocca, se non c'è, chiudere, va bene, quello è vero, ok, adesso, a e Grazie.